Buonasera a tutti, questa è l'ultima di una serie di conferenze che sono state organizzate da Italia Nostra, dall'Istituto della Bioetica e dall'Istituto di Reggio Emilia Genova. L'argomento che trattano queste conferenze è sulla forestazione urbana. Abbiamo già avuto tre incontri che trattavano l'argomento della forestazione urbana, della memoria verde e paesaggi e quest'ultima tratterà l'argomento delle linee fondamentali per il piano del verde. È un argomento molto appropriato, opportuno e cade in un momento molto favorevole, nel senso che il Comune di Genova ha deciso di dotarsi del piano del verde e quindi questa conferenza cade nel momento giusto. Tratterà l'argomento la dottoressa Francesca Neonato, che è paesaggista e agronoma, agronoma e paesaggista, scusa. E quindi ci intratterà su questo argomento. C'è da dire che, alla luce dell'esperienza che abbiamo avuto con l'incontro con assessori e uffici del Comune di Genova, la sensazione è che questa opportunità, perché dovrebbe essere veramente un'opportunità per il Comune, rischia di diventare un'occasione persa. Non abbiamo avuto l'impressione che questo argomento si è affrontato come dovuto, con gli investimenti e con le risorse da destinarci, e che si è vissuto un pochettino come un male inevitabile da parte dell'amministrazione. Pertanto, queste pillole di saperi, io le chiamo perché queste conferenze che abbiamo avuto in questo periodo per me sono state veramente delle pillole di saperi, questo argomento si inserisce perfettamente in questo contesto. E quindi, mi direi di organizzarci in questo modo. La dottoressa Neonato ci deve lasciare alle 18.30. Pertanto, io adesso passo la parola a Giorgio Scarfì, che fa una breve introduzione. Dopodiché, fino alle 18.15, può intervenire e relazionarci la dottoressa Neonato. Gli ultimi 15 minuti li lasciamo per le osservazioni o per eventuali quesiti, che eventualmente potremo anche scrivere in chat, in modo da non sprafonare dai tempi che ci siamo dati, e poi gentilmente, eventualmente, la dottoressa potrà darci una risposta. Grazie, buon ascolto. Bene, allora posso prendere la parola io? Dico bene? Sì? Mi sentite? Ti sentiamo. Ok, scusate, era un atto. Bene, allora io sono Giorgio Scarfì, sono un iscritto d'Italia Nostra, gestisco anche una pagina Facebook a Genova, che è abbastanza nota per trattare questi temi di interesse generale, che si chiama Genova contro il degrado. Premetto, non sono un tecnico del verde, sono neanche un paesaggista, sono un appassionato, un appassionato che ha studiato un po', che si è guardato attorno, e che soprattutto negli ultimi anni ha cercato di tirare un po' fuori certe informazioni che erano rimaste un po' nel congelatore. Quindi, come siamo arrivati alla situazione che ha descritto Graziella adesso, per cui il Comune di Genova vorrebbe, vuole realizzare un piano del verde? Siamo arrivati in un percorso che alla fine è durato praticamente circa 15 anni, e che è iniziato nel 2010, in cui il Comune di Genova è stato sicuramente all'avanguardia in un periodo di tempo, e lo dico non perché è in linea che ci ascolta, perché è oggettivamente stato così, nell'emanare una serie di disposizioni, regolamenti, principi, e cose del genere, per cui Genova era davvero all'avanguardia. È stato creato, diciamo, sotto la giunta del sindaco Vincenze e dell'assessore Montanari, sono stati creati, diciamo, in sequenza veloce, il regolamento del verde, l'istituzione della consulta del verde, il regolamento dei parchi storici. Poi è stata, alla fine della giunta, è stata creata, e questo ve ne parlerà dopo la dottoressa Neonato, la ragnatela, che era il documento preliminare per un piano del verde. Ripeto, stiamo a settembre del 2010, e oggi siamo a febbraio del 2014, e poi a febbraio del 2012 la relazione illustrativa del piano del verde. Poi, come succede, cambiano le giunte, cambiano gli assessori, cambiano le priorità, e sostanzialmente la città è rimasta immobile dal punto di vista, diciamo, normativo, su questo tipo di cose. Peggio, vorrei dire, è andata indietro, perché non è rimasta immobile, è andata indietro, perché tutte le cose di buonsenso che erano state fatte nel 2000, in quella finestra di tempo breve, 2010-2012, sono state progressivamente abbandonate e non applicate. Allora, che cosa ho fatto io, e poi come ho conosciuto Francesca, partendo da quelle che erano le segnalazioni proprio, come dico io, della punta dell'iceberg, del malcontento dei cittadini sulla manutenzione, la cura corrente del verde cittadino, abbiamo provato, diciamo, a capire che cosa era successo, che cosa ci stava dietro. E ritirando fuori questi documenti che erano stati abbandonati, ritirando fuori il fatto che la consulta non veniva convocata da un mucchio di anni, che il regolamento del verde sostanzialmente è disapplicato e che mancava ancora un piano del verde che era già stato semi-preparato più di 12 anni fa. Qui, un po' con la forza dell'associazione, un po' con la forza anche un po', diciamo, di comunicazione sui social, abbiamo ottenuto che l'amministrazione pubblica ci stesse a sentire. Quindi ha istituito delle commissioni tematiche dedicate al verde, in cui, appunto, è ripartita l'attività della consulta, nell'ambito della consulta è ripartito un tavolo tecnico legato alle alberature stradali, uno dei problemi più segnalati dai cittadini, e poi si è chiesto anche il piano del verde. Benissimo. E l'assessore avvenente rispose avremo il piano del verde entro la fine di questa giunta comunale. Benissimo. Poi a novembre veniamo a sapere che, incidentalmente, veniamo a sapere che il comune ha istituito un gruppo di lavoro interno fatto solo ed esclusivamente da funzionari comunali, alcuni stimatissimi, anche devo dire, bravissimi, ma solo interno, senza nessuna risorsa economica alle spalle, per la redazione di questo piano del verde. E adesso, sostanzialmente, arriviamo ai giorni nostri. è stata presentata la prima bozza, ma di questo non parlo perché parlerà Francesca anche con la competenza che io non ho assolutamente, e l'impressione, come è stato detto prima da Graziella, è che questa cosa qui non sia stata una risposta alle legittime richieste che venivano dai cittadini di avere una pianificazione del verde sia dal punto di vista complessivo sia dal punto di vista poi anche, diciamo, delle risorse necessarie per la manutenzione di quello che c'è e di quello che ci sarà nel prossimo futuro. Ma è stato probabilmente, sembra quantomeno, una risposta a un'altra necessità che ha il comune in questo momento, quello di redare, di redigere, scusatemi, un nuovo piano urbanistico. Per cui condizione necessaria è avere un piano del verde. Ma, ripeto, di queste cose qui adesso vorrei che parlasse Francesca perché io l'ascolto e imparo ogni volta diciamo qualcosa di nuovo. Quindi spero di aver spiegato. Francesca, io l'ho conosciuta diciamo ricercando i nomi di tutti quelli che avevano collaborato ai documenti che erano stati preparati nel 2010. Poi ci vuole sempre anche la buona sorte. Il mio fisioterapista e suo cugino mi ha dato il numero di telefono e di lì diciamo ci siamo conosciuti. È venuto una prima volta a fare una presentazione Italia Nostra. L'altro giorno era in commissione comunale a parlare, a spiegare come dovrebbe essere fatto un vero piano del verde e oggi cercherà di spiegarlo anche a noi. Grazie. Grazie a te Giorgio e naturalmente spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. Condivido lo schermo eh? Riuscite a vederlo? Sì? Sì. Benissimo. Allora vabbè partiamo da un presupposto che penso che tutti ne siano assolutamente aspettate no ho sbagliato condivisione pardon perché devo condividere un altro schermo che è questo non si capisce scusate un attimo di problemini tecnici schermo 2 eccolo qua ok allora ci siamo sì benissimo allora dicevo ecco sicuramente questa è un'immagine che avete tutti chiarissimo sono i 17 obiettivi appunto dello sviluppo sostenibile da qui al 2030 molto ottimisticamente e in particolar modo partiamo dall'obiettivo 11 quello di rendere le città gli insediamenti umani inclusivi sicuri duraturi e sostenibili ok quindi potenziare un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile alla capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo integrato e sostenibile ecco vediamo appunto scusa noi vediamo la locandina però non le slide veramente sì adesso 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 sì adesso sì perfetto ecco quindi qual è lo strumento su cui tutta credo la collettività scientifica e non solo anche il grande pubblico ormai ha le idee chiare che effettivamente quello che ci può salvare o quantomeno migliorare la qualità della vita nelle nostre città è proprio la dotazione di verde ma quando parliamo di verde appunto si usa un colore per definire qualcosa di molto complesso che poi fondamentalmente può essere anche inteso come un ecosistema urbano come un metabolismo urbano in grado di vivere di rispondere appunto agli impatti alle sollecitazioni attraverso appunto quella caratteristica proprio insita nei sistemi naturali che si chiama appunto resilienza e che viene appunto da questi ambienti però appunto non è la singola area verde che ci salva non è il giardinetto sotto casa ma il modello che funziona è quello proprio connesso al concetto di rete ecologica dove la rete ecologica territoriale risponde evidentemente ad altre caratteristiche ha come target delle specie animali appunto da tutelare nel caso delle reti ecologiche urbane invece la specie target è proprio l'essere umano quindi appunto la qualità di vita come può cambiare all'interno appunto dei nostri sistemi urbani dico rete ecologica perché appunto la pletora di aree verdi che possono essere grandi parchi periurbani piuttosto che le piccole aree man mano che ci si sposta verso il centro città e le nostre città e il nostro modello urbanistico sin dall'epoca romana e medievale proprio centrato su dei centri storici estremamente urbanizzati diremmo hardscape in cui evidentemente la quantità e la qualità del verde tende a diminuire cos'è che veramente funziona sono le connessioni le connessioni tra queste varie appunto tessere che compongono questo mosaico complesso che appunto è l'ecosistema urbano e che non solo funzionano in termini biologici ma soprattutto in termini funzionali viali alberati percorsi protetti caratterizzati appunto dal verde possono per esempio stimolare anche abitudini dei cittadini diversi come ad esempio la mobilità dolce o un viale alberato che può con una con una ciclabile in sicurezza ecco sicuramente sceglierò sarò più portata a scegliere un sistema appunto di mobilità dolce come può essere la bicicletta piuttosto che appunto l'autovettura sapendo che questo ha un effetto immediato sull'ambiente perché non emetto CO2 non usando l'auto e anche sulla mia stessa salute evidentemente perché appunto viene promosso questo diverso stile di vita appunto non tutte le aree verdi hanno le stesse funzioni quindi vediamo che in questa matrice abbiamo diviso appunto quelle che sono le principali tipologie di aree verde che vanno dai grandi parchi per urbani sino appunto alle soluzioni più minute di verde all'interno delle città qui vediamo raccolti i benefici che i sistemi verdi danno all'umanità che gli scienziati chiamano servizi ecosistemici che si dividono fondamentalmente in tre grandi categorie sarebbero quattro ma i servizi di supporto che sono la fotosintesi clorofiliana la formazione del suolo eccetera sono la base degli altri tre quindi su cosa lavorano appunto i sistemi del verde e quali tipi di benefici di servizi ecosistemici producono intanto quelli da provvigionamento ovvero forniscono il cibo pensiamo agli orti pensiamo all'agricoltura periurbana forniscono le materie prime forniscono l'acqua potabile e non ultimo forniscono le energie quindi proprio come dire i materiali costituenti la nostra la nostra stessa vita ma anche svolgono famosi servizi di regolazione e qua arriviamo appunto a uno dei dei punti più più caldi che sono le sollecitazioni che ci arrivano appunto dal cambiamento climatico quindi la regolazione climatica la riduzione di eventi estremi climatici dalle inondazioni ai periodi siccitosi alle appunto bolle di calore che in città particolarmente si fanno sentire tramite il fenomeno delle isole di calore tutti probabilmente sanno di cosa si tratta ma in due parole per spiegarlo la differenza che c'è tra il centro città e le aree periferiche verdi e che nel periodo caldo che ormai come dire si estende da marzo aprile fino a ottobre inoltrato in cui assistiamo a una differenza termica notevole di temperature tra l'interno e l'esterno della città soprattutto di notte perché appunto laddove c'è il verde le temperature nottetempo si attenuano dove invece abbiamo una città consolidata fatta di pavimentazione di case materiali come la pietra l'asfalto il cemento che assorbono durante il giorno tutto il calore proveniente dal sole di notte lo rilasciano per cui fondamentalmente non c'è un gradiente termico se di giorno c'erano 36 gradi di sera ce ne sono 34 non si percepisce mai questa sensazione appunto di benessere poi appunto tra i vari servizi di regolazione c'è anche la filtrazione dell'acqua quindi la possibilità che l'acqua piovana ritorni alla falda freatica passando attraverso il suolo le radici tutto quel complesso mondo microbiologico che c'è nel suolo in grado appunto di filtrare e risanare anche l'acqua per poi renderla appunto disponibile stiamo parlando di acqua potabile evidentemente disponibile appunto all'uso civile e fatto non banale lo stoccaggio di anidride carbonica altro importantissimo servizio di regolazione che come ben sapete responsabile dell'effetto serra è tra i principali come dire risultati attesi adesso si mette molta attenzione perché è su questo che inibia insistono sulle foreste che indubbiamente sono degli straordinari stoccatori di anidride carbonica ma vi ricordo come anche il suolo non perturbato uno straordinario deposito appunto di anidride carbonica abbiamo fatto una ricerca con l'università Bicocca di Milano e pedologia e nella valle del Ticino non lontano da Milano abbiamo trovato le quantità di anidride carbonica stoccata nel terreno nei prati permanenti pari a quello delle foreste quindi anche i grandi prati urbani che non vengono lavorati ma esclusivamente falciati sono degli straordinari stoccatori e oltre all'impollinazione e tanti altri la terza categoria che mi fa piacere sempre mettere in evidenza è quello legato ai cosiddetti servizi culturali cioè le aree verdi come dire non ci danno solo il cibo da mangiare l'aria da respirare e l'acqua da bere e quant'altro ma sono anche in grado appunto ai servizi di regolazione che dicevo prima ma sono proprio in grado di definire il nostro aspetto identitario la qualità della vita la bellezza l'aspetto come dire strettamente legato come accennavo prima alle abitudini di vita quando il sindaco di New York Bloomberg nel 1980 lancia il grande progetto The Great Greener New York un piano appunto per incrementare le aree verdi all'interno della città era perché i suoi funzionari gli avevano presentato dei dati che dicevano che nei quartieri ricchi, bianchi WASP c'erano delle condizioni di salute per esempio dei bambini molto diverse che non nei quartieri poveri degradati privi di verde eccetera quindi fondamentalmente dalle malattie respiratorie anche le forme di diabete giovanile ecco sono contrastate e questo voglio dire è sopportata da una fortissima bibliografia scientifica dalla presenza appunto di aree verdi ecco e come dicevo tornando a questa matrice quanto più le dimensioni e il modello delle aree verdi segue un po' diciamo il modello naturale tanti più sono i servizi ovvero i benefici che i cittadini possono ricevere è chiaro che non è assimilabile un grande parco urbano con un'aiuola stradale ma come dicevo prima anche l'aiuola stradale può avere il suo ruolo purché connesso appunto da un sistema da una rete sostanzialmente ecco ci tengo appunto a dire come questi benefici cioè la possibilità di poter accedere a questi benefici quindi le famose città resilienti cui faceva riferimento l'obiettivo 11 dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile metta proprio in relazione la possibilità di avere questi benefici con alla fine proprio la libertà di scelta e azione cioè vivere in luoghi sani belli e sicuri fondamentalmente cambia la qualità della vita della vita delle persone e siccome contrariamente a quanto è stata appunto nella sua attività di assessora la Pinuccia Montanari quindi già molto attenta e sensibile a queste tematiche purtroppo negli anni nella mia attività professionale mi sono sempre sentita fare la lagna che è bello il verde ma costa allora anni fa mi sono messa insieme ad altri due autori Francesco Tomasinelli naturalista e Barbara Colanino esperta invece di economia ambientale a fare quelli che chiamo io i conti della serva benissimo dite che fare il verde costa mettiamoci lì e calcoliamo appunto anche in termini economici l'impatto di questi benefici di questi servizi ecosistemici nelle nostre vite laddove alcuni dati era facile come dire attribuire un valore economico devo per esempio calcolare il cibo prodotto benissimo il cibo ha un prezzo di mercato piuttosto la CO2 stoccata esiste appunto un valore della CO2 voi sapete con le quote eccetera ma se io devo calcolare quante spese mediche il servizio sanitario è evitato perché appunto nei quartieri verdi i bambini si ammalano di meno capite che diventa più difficile quindi c'è tutta una metodologia complessa che in questo libro che si chiama Oro Verde appunto abbiamo in particolar modo la collega che si è occupata di questa parte messo in evidenza tale da poter appunto attribuire dei valori economici che all'incirca stiamo parlando di queste di queste dimensioni vuol dire che il valore economico totale dei benefici che viene fornito dal Verde per esempio di un parco di un grande parco periurbano può appunto variare dai 20.000 agli 80.000 euro all'anno di appunto benefici per i cittadini che cosa significa non stiamo parlando del valore patrimoniale ma proprio della rendita se vogliamo così chiamarla che ogni singola area verde appunto è in grado di offrire ai cittadini un po' come la gallina e il parco le uova sono i servizi ecosistemici finché c'è una gallina che sta bene ben nutrita eccetera ogni giorno mi farà il suo uovo e di questo uovo appunto ne godranno tutti se poi vogliamo andare a vedere come dire gli aspetti anche economici legati alla manutenzione quindi ai costi necessari per mantenere questo sistema del verde e giustamente prima Pinuccia Montanari appunto evidenziava l'importanza delle manutenzioni quindi è giusto investire nelle manutenzioni perché è giusto mantenere in salute un patrimonio un patrimonio che se è ben gestito continua ad elargire appunto questi benefici si faceva prima riferimento al quadro normativo le cose sono cambiate dal piano del verde prima edizione genovese del 2012 proprio nel 2013 è stata approvata questa legge sulla norma per gli sviluppi per lo sviluppo degli spazi verdi urbani che diciamo così consiglia perché anche questo non hanno questa legge non ha un potere diciamo così impositivo ma consiglia appunto di adottare tutta una serie di accorgimenti per aumentare le aree verdi in particolar modo richiede la formazione di un catasto del verde lo chiama catasto noi tecnici lo chiamiamo censimento cioè per riuscire a capire quali sono le difficoltà che in città si possono verificare a causa appunto delle cose che si dicevano prima la prima cosa da fare è conoscere attentamente la consistenza di quello che abbiamo per andare a capire dove sono le criticità dove invece abbiamo delle plusvalenze a questo è seguita appunto una linea le linee guida per la gestione del verde urbano e le prime indicazioni per una pianificazione sostenibile laddove vengono chiaramente indicati tre fondamentali strumenti per poter fare appunto questa per poter mettere in atto questa visione strategica che sono il censimento quello che dicevo prima è il catasso del verde quindi una descrizione ben precisa di quelle che sono le singole aree a verde conoscendone la consistenza quindi tutti gli aspetti descrittivi ma anche non solo quantitativi quante grande quanti alberi ci sono eccetera ma di tipo qualitativo cioè quanti servizi ecosistemici quell'area verde è in grado di produrre più avanti vedremo come funziona la cosa il regolamento del verde di cui ha già parlato Giorgio Scarpi prima che è fondamentale perché regola i rapporti fondamentalmente tra cittadino e amministrazione è passato il concetto che il verde gli alberi ma in generale il verde non è più una proprietà privatistica cioè l'albero nel mio giardino svolge delle funzioni appunto i servizi ecosistemici di cui beneficiano tutti oltre evidentemente anche la biodiversità per esempio la fauna urbana evidentemente non fa distinzione tra pubblico e privato ed infine il piano del verde l'argomento della giornata di oggi fondamentale perché perché come dice appunto la normativa definisce i principi e fissa i criteri per la realizzazione di aree verdi nell'arco della futura pianificazione urbanistica generale ecco secondo me anche questa definizione è un pochino restrittiva perché perché intanto è stata scritta prima della impennata diciamo così della problematica legata ai cambiamenti climatici quindi non bisogna agire solo sulle nuove aree che si verdi che si realizzeranno ma si può cominciare e fare un ottimo lavoro anche migliorando le prestazioni delle aree verdi esistenti e poi perché altro aspetto fondamentale del piano del verde come dire pone una al centro una visione di città un modello di città su cui secondo me attualmente pochi amministratori veramente si si misurano quindi si rincorrono le emergenze si mettono delle pezze dove si può ogni tanto esce fuori qualche progetto grandioso di cui appunto tutti i giornali parlano ma in realtà questa visione come dire continuativa di pianificazione veramente fa un po' fatica nel nostro paese ad affermarsi quindi il piano del verde deve avere quindi un primo piano conoscitivo importantissimo quindi conoscere la consistenza come dicevo prima delle aree verdi fare appunto una quantificazione non solo degli aspetti quantitativi ma di quelli ma anche di quelli qualitativi lavorare con i bisogni anche questo noi lo sappiamo cioè si può realizzare da uno a un miliardo ma il vero tema è da una parte le risorse disponibili di cui poi parleremo ancora e dall'altro le esigenze zona per zona ambiente per ambiente evidentemente ci sono affrontando appunto un tessuto urbano ci si rende conto come possono cambiare sostanzialmente le esigenze da una parte all'altra della città e la seconda parte importantissima dopo appunto la verifica della consistenza in una visione di multifunzionalità sono come attuare questo piano del verde quindi la cosa fondamentale è che un po' sfugge devo dire a molti amministratori anche basati anche magari ispirati dai migliori principi e che il piano del verde non è un libro dei sogni che ha come ci piacerebbe vivere tutti come Heidi sto scherzando naturalmente ma si pone degli obiettivi concreti sulla base evidentemente dei rilievi fatti del quadro conoscitivo ottenuto in un arco temporale anche questo tre anni cinque anni dieci anni vent'anni e così via con risorse e personale dedicato a questo perché se no appunto restano linee di principio linee guida interessanti ma che difficilmente appunto possono essere attuati soprattutto in un piano d'insieme complessivo organico nel 2020 il decreto ministeriale ha emanato i criteri ambientali minimi per i servizi di progettazione realizzazione e manutenzione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la gestione del verde quindi per i comuni credo se non ricordo male superiori ai 15.000 abitanti i criteri ambientali minimi su cui si basano per esempio gli appalti per la gestione del verde pubblico e quant'altro prevedono che il comune si sia dotato di un censimento del verde e di un piano del verde quindi cosa vuol dire nel momento in cui io affronto la gestione so in quale direzione io gestisco il verde urbano che non è solo tagliare il prato e potare gli alberi ma appunto verso quali modelli stiamo andando e come penso di migliorare la prestazione di queste aree in termini talvolta anche proprio della fruibilità e sempre in ogni caso della produzione di servizi ecosistemici qua spiega bene come deve essere fatto un censimento fatto bene appunto delle aree verdi che deve essere per forza di cose ormai si lavora solo su questo georeferenziato con appunto tutte schede descrittive che servono a raccontare esattamente cosa succede in quell'area verde quindi non solo il verde gli alberi le dimensioni la specie il genere la specie le condizioni fitosanitarie fitostatiche e così via ma anche raccogliere informazioni su tutti quei complementi che vanno appunto dalle aree gioco aree cani aree fitness percorsi eccetera che ovviamente fanno parte dell'area verde e che hanno anche anche essi bisogno appunto di essere gestiti quindi sulla base di questo censimento del verde e poi secondo me non solo su questo lo vediamo più avanti adesso che parliamo appunto del piano del verde di Genova appunto viene redato appunto il piano del verde cittadino che sempre i cami lo identificano come lo strumento necessario integrativo della pianificazione urbanistica generale che stabilisce in base alle priorità determinate dalle esigenze del territorio gli obiettivi previsti in termini di miglioramento dei servizi ecosistemici gli interventi di sviluppo e di valorizzazione del verde urbano e per urbano a lungo termine quindi è una visione evidentemente strategica a lungo termine le risorse economiche da impegnare e le modalità di monitoraggio degli obiettivi raggiunti ecco perché è così importante nella fase appunto di verifica delle condizioni esistenti individuare gli indicatori che sono quelli che poi verranno utilizzati successivamente per valutare la riuscita o meno delle iniziative intraprese partiamo da un'area verde che attualmente mi produce tot servizi ecosistemici con queste implementazioni da qui a dieci anni la stessa area verde potrà produrre più servizi ecosistemici che è la cosa che fondamentalmente ci interessa maggiormente arriviamo al famoso piano del verde di Pierova quello del 2012 allora sono passati 12 anni ripeto il tema del cambiamento climatico è diventato ancora più pressante insomma adesso non perdo parole su questo perché abbiamo tutti sotto gli occhi però cosa avevamo fatto fondamentalmente avevamo fatto tutta una serie di analisi e nella fattispecie devo dire io e Francesco Tommasinelli perché come PN Studio appunto abbiamo fondamentalmente lavorato noi due poi ci hanno dato una mano un geologo altre figure professionali ma per quanto riguarda appunto tutti i rilievi abbiamo girato proprio fisicamente tutta la città tutte le aree verdi non solo all'epoca si stava discutendo il primo PUC e quindi anche tutti i distretti di trasformazione perché era lì che si giocavano le partite della città poi molti distretti di trasformazione guarda un po' erano aree industriali o produttive dismesse dove vicino alla costa vicino ai corsi d'acqua cioè proprio in quelle parti più fragili del territorio quindi una formidabile opportunità se ben gestita nella rigenerazione urbana certo pensando ovviamente a una rigenerazione di tipo urbanistico quindi evidentemente non solo oasi faunistiche come magari ci piacerebbe che ogni tanto si facessero ma con un'attenzione proprio legata a che tipo di appunto sistema verde e e soprattutto dove posizionarlo cioè questo piano del verde non entrava tanto nel merito appunto mi metti il pero invece del melo non era questo evidentemente però ad esempio lavorare sul margine dei corsi d'acqua creare delle connessioni aumentare il drenaggio urbano invece appunto è contenuta in ogni singola scheda elaborata da questo piano che poi il PUC a suo tempo aveva accolto al suo interno e quindi da questo punto di vista questo lavoro è stato molto utile un'altra situazione in cui si è rivelato molto utile è stata per superare le obiezioni della VAS della valutazione ambientale strategica al PUC che la regione Liguria a suo tempo aveva sollevato dicendo che il PUC era molto povero praticamente inesistente lo studio sulla biodiversità urbana invece il nostro studio preliminare si basava proprio su questo concetto quindi passando da una visione puramente dicevamo estetica del verde a tanto bel verde il parco eccetera a una visione invece multifunzionale o quantitativa perché non è importante il metro quadro in più a cittadini ma come ogni metro quadro di verde è ben progettato è ben gestito e quindi in grado di dare il massimo appunto in termini di beneficio ecco in tutto questo ci tengo a dire da paesaggista che la bellezza degli spazi verdi in un certo senso è una ricaduta inevitabile non che non se ne tenga conto nella progettazione c'è ovviamente anche l'aspetto compositivo ma ben sapendo che nel momento in cui si lavora con meccanismi biologici piuttosto complessi è da tenere sott'occhio veramente una pletora di diversi richieste quindi avevamo individuato quattro grandi categorie diciamo così di verde cittadino quello territoriale poi Genova ha una condizione geografica veramente particolarissima è tutta una città concentrata e questa stringa che si inoltra in alcune valli eccetera e intorno a tutto questo mondo straordinario di biodiversità e di agricoltura periurbana altro fattore molto molto importante perché sappiamo che non solo in termini produttivi ma di presidio del territorio di gestione appunto del dissesto idrogeologico svolge veramente un ruolo cruciale poi avevamo chiamato il verde strutturato tutto quel verde che già i cittadini genovesi riconoscono e che fa parte del loro DNA voglio dire da che ne so la spianata acquasola piuttosto che il palco durazzo paravecini apelli cioè quello che ormai diciamo così fa parte della città tanto quanto il Duomo di San Giorgio per intenderci ecco e poi invece avevamo messo in evidenza quello che poteva essere un verde connettivo quindi utilizzando tutti quegli spazi residuali ma che potessero appunto attuare quella rete ecologica che anche se ridotta un singolo filare alberato su in una strada però metteva in connessione funzionale ma anche ecosistemica due diverse aree verdi posizionate in aree diverse appunto per cui dalle crese eccetera le ciclabili eccetera e poi individuavamo un'altra categoria che è il verde tecnologico e devo dire che su questo così come sui servizi ecosistemici non per tirarsela ma ogni tanto bisogna tirarsela avevamo avuto come dire una certa premonizione insomma una capacità di vedere oltre perché oggi si parla tantissimo di nature based solution oppure di sistemi urbani di drenaggio sostenibile eccetera ecco e noi proprio pensando alla mineralità di una città come Genova avevamo proprio messo in evidenza anche appunto questa tipologia di verde che fino a quel momento non era stata granché considerata quindi fondamentalmente a quell'epoca ci siamo confrontati con gli obiettivi del PUC che li ricordo il collegamento della linea blu e della linea verde questa nella visione di Renzo Piano della città un verde parallelo alla costa il inserimento di nuove verdi per rafforzare questo concetto di green belt che Genova per forza ha perché come dicevo prima è molto condensata nelle poche parti pianeggianti per poi appunto smagliarsi in un territorio già estremamente verde di sua e poi ricucire tutti quei percorsi che a questo punto per noi erano così funzionali per la rete ecologica e creare il più possibile spazi verdi anche piccoli dei servizi ecosistemici ne abbiamo già parlato questo appunto è ecco no questo era abbastanza interessante perché metteva in relazione la produzione di servizi cioè di benefici che ogni singola area verde ha messa in confronto con i costi di manutenzione e vediamo che la forbice è sempre comunque estremamente positiva cioè quanto più anzi un'area verde è diciamo naturalistica tanto più il beneficio il bilancio è positivo quanto più ci spostiamo invece in forme di verde più artificiali come può essere che ne so il verde pensile adesso si parla tanto di boschi verticali eccetera eccetera va bene ok però se poi andiamo a fare i conti i costi di gestione sono effettivamente molto alti e talvolta pareggiano se non superano appunto i costi invece i benefici sempre quantificati anche da un punto di vista economico quindi ecco l'altra cosa che il piano del verde faceva e che tra l'altro è stata anche questa credo abbastanza all'avanguardia era quello appunto di valutare la multifunzionalità cioè insieme a tutta una serie di rilievi di tipo proprio scientifico misurabile quantitativo per cui appunto avevamo i nostri indicatori abbiamo anche introdotto dei parametri di tipo qualitativo quindi soggettivo naturalmente criticabilissimi ma ovviamente basandoci anche su una bibliografia internazionale e analoghe applicazioni che ci desse appunto un'idea attraverso un punteggio di quanto le singole aree verdi potessero dare in termini appunto di multifunzionalità la multifunzionalità lo ricordo sono appunto le tante funzioni che un'area può svolgere allora se partiamo dalla rotonda stradale la sua multifunzionalità è piuttosto ridotta funziona in quanto è una rotonda stradale ma non ha tanto di più se pensiamo a un grande parco urbano invece è un luogo dove incontrarsi dove avere relazioni sociali che è in grado di immagazzinare l'acqua di stoccare la CO2 eccetera eccetera tutto questo appunto premiato attraverso un sistema di punteggi a questo punto abbiamo ridisegnato una mappa della città prendendo in considerazione partendo quindi dalla presenza delle aree verdi sia pubbliche ma anche di tipo privata e attraverso appunto questo sistema di punteggi abbiamo dato colori diversi laddove il verde più scuro sono le aree con una maggiore appunto multifunzionalità vedete che man mano ci si sposta verso il centro urbano denso ovviamente il verde diventa più chiaro perché appunto le funzioni diminuiscono rispetto appunto alle grandi aree e ai benefici che sono in grado di apportare questa carta della multifunzionalità delle aree verdi scusate ecco volevo prendere questo l'abbiamo poi incrociata con la carta della biodiversità laddove oltre a tutti i nostri rilieghi fatti come dicevo prima punto per punto abbiamo utilizzato l'atlante ornitologico che è uno strumento molto utile perché gli uccelli sono dei grandi indicatori dello stato ambientale dei luoghi e quindi per farvela breve incrociando questi due dati siamo riusciti questi due dati queste due cartografie a appunto elaborare questa cartografia quindi prima Giorgio tu dicevi è stata fatta una relazione sì c'era la relazione ma c'era anche una cartografia oltre che un abaco degli interventi suggeriti quindi non solo le linee guida di cosa fare ma anche di come farlo ok quindi diciamo che era da questo punto di vista era abbastanza completo quindi intersecando le due precedenti carte abbiamo ottenuto questa carta della sensibilità ecologica l'abbiamo chiamata così cioè quelle aree che sono molto sensibili perché hanno delle caratteristiche interne ma che possono appunto essere minacciate maggiormente chiaramente dove vedete i colori sul rosso sono le aree più minacciate quelle dove c'è il blu scuro invece sono quelle meno disturbate dalla presenza umana e che per loro caratteristiche intrinseche diciamo così sono più resistenti alle sollecitazioni vedete questi quadrati perché l'atlante ornitologico è proprio concepito con dei quadranti cartografici quindi appunto individuate tre tipi di aree a bassa ad alta intermedia area sensibilità ecologica alla fine di tutto questo studio abbiamo potuto fare la carta delle connessioni ecologiche delle aree nodali in ambito urbano le aree nodali nella rete ecologica sono delle aree verdi di solito di discrete dimensioni sono almeno due ettari e che per loro caratteristiche interne svolgono una funzione importantissima di riparo per la fauna e di nutrimento e questo che cosa ci dice ci dice che sostanzialmente in quella situazione abbiamo delle condizioni buone per la fauna ma fondamentalmente anche per gli esseri umani quindi sono quelle famose aree che producono quanti più servizi ecosistemici e quindi benefici per la cittadinanza quindi erano 11 di queste zone messe tra l'altro in a confronto con i distretti di trasformazione cui accennavo prima che appunto qua qua vediamo ecco la relazione conteneva appunto anche quelle che abbiamo chiamato le buone pratiche ovvero individuava criteri per la pianificazione delle nuove aree verde criteri per la progettazione delle aree verde sempre con queste finalità di multifunzionalità di aumento dei servizi ecosistemici eccetera tutti quegli accorgimenti progettuali per i nuovi edifici in progetto e in generale le infrastrutture e pensiamo ad esempio cosa significa adesso progettare un'area parcheggio noi lo dicevamo già allora e oggi come oggi appunto i sistemi di drenaggio urbano sostenibile sono all'ordine del giorno almeno nelle dichiarazioni poi magari nella pratica un attimo di meno e l'altro aspetto importantissimo la gestione perché evidentemente ogni progetto migliore possibile può essere letteralmente stroncato dalla manutenzione sbagliata vedi le capitozzature degli alberi piuttosto che la sagomatura priva di significato degli arbusti sapete dell'arbusto palloncino costa un sacco di soldi fare il tosasiepi emette co2 si consuma ma perché soprattutto siamo in un giardino all'italiana dove dobbiamo fare l'arstopiaria no e allora non serve niente lasciamo le forme libere ecco sono contenta da un certo punto di vista perché leggendo il documento preliminare non so come chiamarlo draft di questo piano del verde che sta facendo internamente il comune di Genova devo dire che tutte queste voci sono state riprese tal quali e per il momento devo dire non ho visto ulteriori ampliamenti di questi nel frattempo vi cito così un altro piano del verde che ho sviluppato per una città molto più piccola che è Bra in Piemonte come ben sapete laddove abbiamo una situazione non così diversa perché anche lì è un centro abitato molto denso a ridosso di un sistema ambientale molto ricco interessante che sono le colline del Roero e una situazione di pianura con un'agricoltura intensiva invece proibitiva lì vi garantisco che è proprio la prova provante che un certo tipo di agricoltura veramente uccide la vita in tutte le sue forme quindi dai campionamenti del terreno dai monitoraggi degli uccelli e delle farfalle tutti quegli indicatori che ti dicono lo stato dell'ambiente nel Roero massimo in città ancora discreto nella pianura il tracollo di qualsiasi dato ma tutto questo per dirvi cosa che oltre appunto al censimento di tutte le piante e di tutti appunto gli elementi costitutivi delle aree verdi abbiamo anche fatto una serie di analisi su quelle che erano per esempio le distribuzioni diametriche che può sembrare una cosa banale ma un albero maturo non lavora come un alberello appena piantato ok poi sono necessarie sicuramente il rinnovamento delle alberature in città sappiamo come gli alberi in città sono sottoposti a dei terribili stress e quindi la loro vita è più stentata è sicuramente più breve quindi è inevitabile pensare a dei rinnovamenti ciclici però con la consapevolezza che nei grandi parchi laddove le situazioni ecologiche si fanno decisamente più favorevoli il mantenimento di piante vetuste ha completamente un altro impatto appunto sulla cittadinanza ma questi erano i monitoraggi basati sostanzialmente su uccelli e farfalli e farfalle ecco e gli obiettivi che in questo caso applicativo avevamo messo ben chiare era non solo aumentare la dotazione quantitativa del verde ad abitanti sono dei livelli piuttosto bassi ma stiamo parlando del centro cioè dell'urbanizzato che è abbastanza concentrato come vi dicevo in un sistema territoriale più ampio però Genova da un certo punto di vista è simile è chiaro che non potrà mai essere come Stoccolma che è nata come città giardino evidentemente noi abbiamo il centro storico medievale più grosso d'Europa per forza di cose sì possiamo aggiungere quella degli alberelli che hanno sicuramente una funzione molto importante da un punto di vista estetico culturale evocativo tutto quello che volete però è chiaro che non stiamo parlando di servizi ecosistemici e quello che vi faccio notare è che appunto la previsione del primo quinquennio poi moltiplicata per i successivi anni e la cosa soprattutto qua vediamo un'immagine estremamente sintetica ma per ogni categoria per ogni parco abbiamo misurato i servizi ecosistemici e ci siamo posti come obiettivo in un quinquennio di portare da 18 euro metro quadro cittadino a 29 e a 30 euro metro quadro metro quadro anno cittadino cosa significa? significa che non solo aumentiamo la dotazione di aree verdi di una città ma come dicevo prima ne incrementiamo proprio le le caratteristiche le qualità e quindi la produzione appunto di questi servizi ecosistemici oddio che è successo? scusate un attimo ho avuto un momento abbiate pazienza forse è finito il tempo scusate no non credo ah no no era no no molto anche a me poco fa è successo un fenomeno che ho uscito e poi rientrare no no semplicemente no no semplicemente erano finite le diapositive perché le avevo calibrate per il tempo per il tempo che avevo a disposizione quindi in sintesi che cosa posso dire anche dopo l'introduzione di Giorgio che ha fatto un po' la storia di questo allora che nel 2012 è stato approvato appunto un piano del verde preparatorio e cosa mancava? mancava semplicemente semplicemente si fa per dire la parte attuativa per cui questo programma si porta avanti da qui a vent'anni e con delle tappe intermedie in cui si misurano i risultati si destinano queste risorse e questo personale evidentemente e quindi si può misurare effettivamente l'ex post no l'applicazione il basato su delle evidenze ecco vi faccio giusto un esempio e su questo chiudo un'altra grandissima città europea come Londra una metropoli ha approvato circa e lo stesso periodo del piano del verde di Genova nel 2012 se non se non se non mi sbaglio ha approvato questo grande piano del verde il piano del verde della grande Londra che si chiama All Green Grid e la cosa notevolissima che distingue un po' gli anglosassoni da noi è che il piano del verde come anche quello di New York è stato portato avanti quello stesso piano dalle amministrazioni al di là appunto dei colori degli orientamenti politici eccetera bene a distanza di 12 anni Londra ha potuto fare già un primo bilancio degli effetti appunto di questo piano del verde quindi realizzazione di nuove aree implementazione di quelli esistenti quello che dicevamo prima bene hanno potuto e questi sono dati ufficiali che trovate tranquillamente anche in sul in internet per ogni sterlina che il governo di Londra i municipi di Londra hanno investito nel verde hanno avuto indietro i cittadini 27 sterline di benefici cosa significa che non è che ovviamente ti danno i soldi in mano le piante ma pensiamo banalmente ho una casa vicino a un parco d'estate io utilizzo di meno il sistema di condizionamento di raffrescamento e questo può incidere fino al 30 al 40% sulla bolletta energetica piuttosto che gli altri esempi che ho fatto prima se noi spostiamo sempre sul privato i costi quindi se tu ti ammali di malattie respiratorie poi è il servizio nazionale che entra in crisi o tu individuo privato che ti devi pagare le cure mediche se tu hai un ambiente diverso ti ammali di meno quindi siccome in economia una mancata spesa è un guadagno dobbiamo vederla sotto questo punto di vista londra ci dice che hanno risparmiato un miliardo di sterline di spese mediche ma la cosa interessante è che il 60% per patologie di tipo fisico soprattutto cardiocircolatorie tutto quello legato a uno stile di vita più sano quindi gente che si muove che va in bicicletta che respira che mangia cibo pulito bla 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 ma il 40% per malattie di tipo psicologico ok infatti loro hanno investito tantissimo recentemente a londra su questi piccoli giardini proprio dedicati agli anziani non chissà cosa a livello botanico compositivo eccetera ma luoghi dove gli anziani si possono incontrare stare insieme far due chiacchiere poi non so cosa facciano i vecchietti a londra non giocano 3-7 ma non lo so ma questo rallenta e scientificamente voglio dire è comprovato da un un'ingente direi proprio bibliografia medica rallenta tutti quei meccanismi di decadimento eccetera eccetera quindi e qui e qui concludo che cosa possiamo imparare da tutto questo che per fare un piano del verde bisogna avere una conoscenza molto dettagliata della situazione esistente e non ce l'hai solo attraverso le cartografie non è solo un lavoro che puoi fare a tavolino ma devi andare in giro devi misurare con delle competenze specifiche naturalmente prima cosa seconda cosa appunto puoi anche definire degli obiettivi condivisibili naturalmente ma se questi non vengono calati in specifiche situazioni attraverso singoli progetti è evidente che non trovano un'attuazione perché finché sono dei suggerimenti che si danno per esempio durante un processo di trasformazione urbana insomma a volte va bene a volte va meno bene quindi già questa prima parte di lavoro veramente è tanto lavoro che non fa una persona sola fa un pool di esperti con delle competenze ci mette tanto tempo perché i rilievi veramente portano via tanto tanto tempo dopodiché si elabora e il passaggio successivo fondamentale è questa dell'individuazione assolutamente delle risorse quindi sono necessarie delle risorse per fare un vero utile piano del verde sono necessarie delle risorse per attuarlo da questo punto di vista credo che l'esempio più virtuoso che abbiamo in Italia è Padova peraltro è un caro amico e collega il direttore del verde di Padova Ciro Innocenti gli ho anche dato una mano ci siamo confrontati su tante cose e loro non a caso hanno proprio fatto un piano del verde che a mio modo di vedere è estremamente ben fatto proprio perché contiene gli elementi di cui ho parlato finora io spero di essere stata chiara e se ci sono domande ancora per una decina di minuti posso rispondere grazie Francesca sei stata veramente illuminante una conferenza molto interessante tra l'altro agganciandomi al discorso dell'esperienza di Padova mi sembra che Padova sia si sia adottata di un bilancio o perlomeno abbia avuto già un approccio verso un bilancio ambientale che è fondamentale per poter gestire una situazione proprio fare dei confronti per verificare se le politiche ambientali attuate hanno una rispondenza come effettivamente in termini di salute sia mentale che fisica e poi volevo fare una piccola aggiunta all'escurso che aveva fatto Giorgio mi sembra di il comune di Genova nel 2017 si era adottata dell'osservatorio Salute Ambiente che è uno strumento che non è stato più utile o meglio è stato utilizzato l'ultima volta mi sembra per la progettazione del ponte l'ex ponte Morale Ponte San Giorgio e questo dovrebbe proprio darci gli elementi utili per raffrontare le varie situazioni di incremento o decremento del verde con anche le varie forme diciamo di matti che si possono verificare nei singoli quartieri io ti ringrazio adesso vedevo guardavo un chat se c'erano delle richieste mi sembra c'è Massi Lucente c'è Massimiliano che vuole intervenire e poi c'è anche una richiesta di Marco Lobardi che l'aveva messa in chat prima che magari può rispondere con calma Francesca quando Massimiliano vai avanti volevo prenotare anche io non vedo come grazie alla nostra cronoma io faccio quello che posso spero in treno e quello che non mi disturbi aspetta io provo volevo chiedere se potevamo secondo me era molto bello se riusciva a rimettere in risalto come ha fatto l'altra volta l'aspetto dedicato al distesso idrogeologico perché tante volte il piano del verde mette in risalto questo degli alberi ma le facevano come sono particolarmente sensibili a questi aspetti ossia i guadagni stimati che sono sicuramente quelli salutistici di salute ma le metteva anche in risalto i guadagni di opere idrauliche che non devono essere fatte e anche il costo della loro manutenzione che è meno che non c'è sono cose a cui tante volte queste amministrazioni sono un pochino più sensibili anche legate appunto al fatto che io ero stato molto attento a questi aspetti è un altro tema ovviamente molto ampio però in breve cosa è successo l'ingegneria tradizionale ha fallito clamorosamente nella gestione dell'acqua ce l'ha ancora acceso è Giuseppe Fornari non vorrei si vede che l'ha riaccesa ecco bravo adesso è così siamo a posto allora che evidentemente come possiamo vedere non sono state efficaci ed efficienti a fronte di costi ingenti pazzeschi per realizzare vasche in cemento per la laminazione la rettificazione dei corsi d'acqua briglie insomma eccetera viceversa appunto quando accennavo prima le nature based solution o i sistemi di drenaggio urbano sostenibile è che la depavimentazione è il primo processo fondamentale cioè avere fondamentalmente quanto più possibile in città pavimentazioni drenanti naturalmente secondo certi criteri progettuali tecnici e quant'altro perché perché il momento in cui abbiamo il picco di pioggia che maldestramente i media chiamano bombe d'acqua ma non è vero non esistono le bombe d'acqua comunque piove tantissimo tutto insieme è evidente che il sistema fognario va immediatamente in sofferenza perché raccoglie l'acqua di tutte le coperture i tetti le strade i parcheggi le cose eccetera i tombini si intasano e appunto le città vanno vanno sott'acqua viceversa esistono tutta una serie di sistemi che vanno dai fossi drenanti ai rain garden eccetera eccetera che invece permettono appunto la gestione delle acque meteoriche attraverso appunto sistemi di rallentamento e utilizzano l'infiltrazione naturale quindi voglio dire a parte che è la scoperta dell'acqua calda perché il suolo da sempre ha avuto questa funzione drenante però pensare appunto dei suoli drenanti in città diventa particolarmente importante perché si come dire si previene l'effetto calamitoso perché fondamentalmente si rallenta o si accumula in dei bacini di drenaggio per esempio ecco le aree umide che sono state cancellate nei decenni passati perché addirittura considerate appunto qualcosa di malsano eccetera beh tutte le grandi città si invece nei parchi si stanno dotando di stagni che hanno che hanno questa funzione nel momento in cui piove tanto chiaramente la gente non va nel parco meno che non sia masochista si riente questo bacino che poi nei giorni successivi pian piano le acque vengono assorbite cosa vuol dire che quel parco nella sua multifunzionalità funziona anche da cassa appunto di ritenzione di questi eventi idraulici eccessivi questo proprio per fare un esempio non esiste più in Germania ma da decenni un'abitazione di nuova costruzione che butti l'acqua di prima pioggia nelle fogne ma non esiste vi faccio un altro esempio che mi ha molto colpito sono stata alla biennale del paesaggio a Barcellona lo scorso ottobre una biennale ogni due anni beh lì appunto hanno presentato un lavoro in cui in Germania fondamentalmente per ogni metro quadro di superficie impermeabile si paga una notevole imposta ok al comune perché effettivamente io se impermeabilizzo grandi superfici inevitabilmente mi appoggio sulla rete fognaria comunale che ha dei bei costi e di realizzazione e di gestione ok questi costi sono talmente alti che grandi gruppi economici per esempio la Lidl che ha tantissimi centri commerciali con enormi aree parcheggio eccetera eccetera ha fatto un lavoro di trasformazione tirando su tutto l'asfalto il cemento quel che c'era per fare delle superfici invece a parcheggio drenanti con gli alberi ok cioè ha ritenuto meno oneroso fare un investimento puntuale ma stiamo parlando punto per punto di centinaia di migliaia di euro perché nella proiezione il tempo di ritorno di quell'investimento era assolutamente convincente per l'investimento che non a continuare a pagare a fondo perduto un'imposta al comune perché appunto le aree erano impermeabili ecco sono questi meccanismi che la politica secondo me dovrebbe attuare quindi non solo l'incentivo se fai il bravo io ti premio con un finanziamento ma addirittura se continui a non fare il bravo beh allora paghi no il concetto di tanti anni fa vero pinuccia che chi più inquina più paga insomma se io mi permetto superfici impermeabili che mi fanno le isole di calore che mi fanno impazzire il sistema fognario è un lusso tra virgolette che mi concedo e allora a quel punto pago alla comunità i disagi che questo provoca non so se ho risposto grazie architetta sì io fra l'altro non sono architetto dottoressa va bene sono agronoma agronoma fuori scala no perché poi non ero riuscito ma va benissimo a terminare la domanda perché volevo solo anche come dire condividere con gli altri io penso che questa volta non ci sarò e darò il testimone ad un altro commissario esterno nel dire che a mio parere oltre che spiccare sul tema alberi specificare che il piano del verde è un tema come ci diceva la dottoressa di determinazione dei riti dei sigillatori dei fiumi scusa Massimiliano vedo che la dottoressa ci debba lasciare grazie e velocemente chi non ci ha alzato la mano se vuole in sintesi quello che ho anche scritto cioè uno che il mio scontro è sempre stato con gli assessori all'urbanistica perché loro appunto vedevano il verde come elemento residuale quindi la prima cosa da far passare è quella di mettere al centro invece una visione della città che ha come elemento appunto fondamentale l'analisi del verde anche per la gestione futura la seconda riflessione riguarda invece il ruolo dei dirigenti cioè se noi abbiamo una dei dirigenti dei funzionali che sono formati da scuole importanti rispetto appunto alla gestione del verde poi avrei anche la la politica insomma farà più fatica a far passare delle pianificazioni che sono in contrasto con tutto quello che ci diceva Francesca nella sua bellissima relazione ecco pensavo alla vecchia scuola di giardinaggio di Roma che io volevo ripristinare a Roma perché era molto importante era proprio un liceo in sostanza di formazione che contribuiva appunto a creare figure che poi all'università avrebbero potenziato le loro capacità però anche di gestione proprio del verde in una visione però ecosistemica quindi di connessione insomma tutto quello che ha detto Francesca ecco volevo sapere cosa ne pensava poi ho visto che anche Luisella voleva fare un'osservazione così mi spiace tantissimo ma veramente devo scappare perché ho un'altra call fissata già da tempo e posso chiedere agli organizzatori magari di farmi avere memoria insomma di queste vostre osservazioni che facciamo un elenco e lo facciamo avere grazie molto ringrazio ciao bene grazie buonasera grazie saluti grazie ma Luisella se volete dire qualcosa magari io volevo semplicemente il senso delle donne per la città e in qualche modo qualcosa che si collegava al nostro discorso dell'ecofeminismo che mi sembra talmente ben esemplato qui da questa splendida conferenza di Francesca che io tra l'altro ho conosciuto da molti anni fa e voglio dire una città perché il senso delle donne per la città ma qui mi piaceva parlare con lei vedere se condivideva questo mio pensiero e da tutto quello che emerge è proprio una città in cui è fondamentale la cura dei bisogni delle relazioni la cura dei viventi non a caso si parla degli uccelli come indicatore dello stato ambientale di sottotetti che siano in grado di ospitare i rondoni mille di queste indicazioni ci danno un'idea di una città che è pensata perché il fatto delle donne ma probabilmente io suggerirei perché forse per troppo tempo sono state escluse quindi il loro sguardo è uno sguardo nuovo c'è forza di immaginazione innovazione è uno sguardo laterale loro c'è insieme cura e curiosità io da questa esposizione di Francesca ma in generale da quelle che ho sentito finora giusto per collegarmi al discorso del rapporto donna-natura devo dire che c'è uno sguardo nuovo molto che genera speranza non è casuale che proprio Marta Vincenzi e Pinuccia Montanari erano le autrici di quel piano del verde di 15 anni fa basta mi limiterei a questo era una spunto di riflessione che vi volevo consegnare che mi riconferma nel grande valore bioetico del lavoro che stiamo facendo insieme bellissima bellissima Graziella forse puoi rispondere tu alla domanda di Marco il bilancio arboreo comunale in ultima versione dove si può reperire che data ha? certo Pinuccia cioè tu lo sai sai qualcosa di questo bilancio arboreo? ma c'è ancora Marco non so se ci sia ancora io è presente Marco ci sia lì sì c'è c'è sì c'è sì c'è ancora io non non sono al corrente l'ho citato perché ho visto nella presentazione che se ne parlava siccome era la prima volta che ne veniva a conoscenza ho detto sarà qualcosa che esiste e che io non ho mai visto e quindi chiedevo dove si poteva recuperare tutto lì noi avevamo iniziato diciamo a a elaborare con Aster se non sbaglio perché adesso mi confondo con le diverse città comunque il censimento del verde mentre a Reggio è stato completato per tutti i municipi circoscrizioni a Reggio tra l'altro poi ogni volta che si completava per un per una circoscrizione veniva redatto anche l'elenco degli alberi di pregio che venivano rigorosamente poi tutelati come se fossero alberi protetti dalla sovrintendenza dalla sovrintendenza insomma questo dietro tra l'altro suggerimento di un magistrato a Genova mi sembra che abbiano iniziato però credo che siano aggiornati al 2021 mi sembra che sia aggiornato il censimento del verde mi sembra però nell'America aveva mandato un timico adesso sto cercando mi sembra che ne parli posso fare una domanda certo posso fare una domandina posso fare una domanda parla la domanda è semplice tanto grazie perché mi sono un po' allargato diciamo avevo delle lacune non piccole sull'argomento grazie ancora ma quello che non ho capito se il comune di Genova attualmente è in bolla sta lavorando sta progredendo oppure ha lasciato lì il tutto e se si è lasciato lì il tutto bisogna che qualcuno stimolasse e andesse a chiedere le ragioni semplicemente questo questo non l'ho capito se me lo fate scusate hai sentito l'introduzione di Giorgio Scarfini c'eri no si l'ho sentito tutto ma non ho capito lo stesso non ho capito non ho capito cosa sta facendo il comune attualmente 2024 in oggi ma se mi posso permettere a quanto ho capito è quello che ci siamo detti ossia loro stanno facendo un piano del verde perché fondamentalmente sembra l'abbiamo fatto passare come un qualche cosa determinato dal pressing della società civile in verità infatti è passato dall'assessore alle manutenzioni a quello all'urbanistica in verità sembra che siano vincoli di legge ma lo diceva anche Graziella se non erro per poter modificare il PUC aveva un piano del verde che è la vera ciccia che interessa perché è col PUC e col piano regolatore che dai un po' come dire le premende agli amici degli amici il grande deficit e ce lo diceva anche nell'ultima commissione l'agronoma è che non ci sono i dati che riguardano le manutenzioni cioè quelli che lei poneva cioè quanto investono al metro quadro in manutenzione a Milano cioè un euro al metro quadro di manutenzione di verde a Milano 16 euro al metro quadro a Monaco di Baviera lei è andata a chiederla non mi ricordo ora come si chiama il direttore di Aste e ha detto ma noi quanto spendiamo di metro quadro di manutenzione verde a Genova all'anno ci ha detto non lo sappiamo perciò manca comunque questa base poi il piano del verde dovrebbe diventare vincolante su opere del PUC ma la base è che il piano del verde deve avere delle gambe finanziarie perché se no rimane solo un manifesto di trenti ma è in funzione ed è valido o c'è una critica feroce se è così da dichiarare da mettere su chiedere a qualche consiglio comunale ai gruppi comunali di sollecitare questo comune su questo argomento ma secondo me secondo me Luigi noi siamo arrivati fino a un certo punto ed abbiamo approvato lo studio preliminare dopodiché come diceva Francesca bisognava calarlo con una previsione diciamo anche quinquennale voglio dire tale per cui tu hai una pianificazione nel tempo che stabilisce appunto gli oneri di manutenzione perché la prima parte dello studio è stata fatta all'epoca tra l'altro andrebbe forse anche aggiornata perché qualche cambiamento magari c'è pure stato però mi sembra che dopo questo si siano fermati cioè da quello che posso aver intuito anche dall'analisi che diceva Fornari insomma e faceva Fornari cioè c'è stato proprio un cioè si è bloccato tutto sostanzialmente quindi adesso questa commissione che è stata messa in piedi dovrebbe riprendere il piano del verde secondo me partire dal lavoro fatto appunto che Francesca Neonato ha ben illustrato e da lì ripartire però con un'analisi seria cioè non solo come strumento per poi appunto andare a provare il FUC ma con una visione più generale che tocca tutti gli aspetti Qualcuno può fare un documentino come si diceva una volta di Elina per fare questo appunto critico che voglio dire mi pare che dobbiamo tradurre in politica quello che stiamo dicendo imparando almeno io imparo voi avete ma scusa appunto per cosa per i consiglieri di riferimento anche ma anche tutti i comuni ci sono stati ci saranno delle riunioni di commissione penso che siano presenti ma poi il comunicato stampa che hanno fatto le varie associazioni è perfetto appunto ci si sta lavorando abbiamo fatto dei comunicati stampa il documento che hanno fatto le associazioni è perfetto si può averlo è in rete l'abbiamo mandato è in quale rete scusate l'ultima rinventura si può avere questo documento da qualche parte non so se lo dobbiamo mandare per posta a casa nel direttivo di ecostituto pubblico che lo abbiamo in mano che lo giro io quello che ma l'abbiamo girato ma guarda che l'abbiamo girato oh vedi rigiratelo di nuovo fate questa gentilezza se si può d'accordo va bene se lo lasciate lo vuoi a casa ti facciamo una lettera te la mandiamo via e fammi anche una lettera c'è di me luigi chiocciolafasce.it grazie graziella vino parla pure no graziella lo facciamo parlare si c'è la mano sussata non vedo c'è qualcuno che il desiderante non è niente sì e Fornari solo che ecco perfetto allora io volevo dire una cosa da neonato però lo dico anche a voi c'è un problema grosso si parla molto cambiamenti climatici che hanno cambiato le cose negli ultimi anni almeno la percezione delle cose perché la montanare lo sa ne parliamo da tanti anni però la percezione delle cose è cambiata non è cambiamento climatici si parla di isole di calore in città dovute ai cambiamenti climatici però bisognerebbe capire che l'effetto della forestazione urbana se non è vicino alla città non serve più di tanto trovi i numeri gli alberi quindi un bosco urbano che si è distante più di 130 metri dalla zona abitata che cade rapidamente il valore e arriva a zero c'è un valore accettabile intorno ai 100 metri quindi se uno non porta gli alberi in città con una forestazione urbana come si sta facendo per chi non l'ha già fatta in tutte le città d'Europa e nel mondo facciamo delle chiacchi quindi a Genova che è stato fatto un tentativo di imporci delle linee guida che ritornano indietro addirittura rispetto alle leggi perché c'è una legge 10 fatta nel 2013 che praticamente coincide con le linee guida scritte adesso quindi oggi ci vengono presentate nulla più che le linee di guida linee guida c'è imposte da una legge che oltretutto non è vincolante ma è diciamo non vincolante cioè non ci sono sezioni per chi l'applica per chi non l'applica allora io dico abbiamo le linee guida queste linee guida non servono a niente c'è un problema grosso che tutte le città cercano di affrontare che è quello uno dei temi più grossi che è quello di portare le alberature ma non le alberature dei viali i boschi la boscazione si chiama rinforestazione o forestazione urbana perché come dicevo al di là dei 100 150 metri gli alberi non servono per migliorare il clima estivo della città quindi ci terremo isole di calore ok ci sono altri interventi? c'è Marco Lomargi che ha alzato la mano ah è così vai pure avanti Marco è il microfono spento eccomi mi sentite? sì ok volevo giusto su questo punto che ha citato Pino è vero che per avere per combattere la bolla di calore dovuta all'asfalto alle strade al cemento eccetera bisogna che gli alberi siano vicini quindi come minimo essere vicini a un viale alberato un giardinetto di prossimità però per tutte le altre cose servono comunque non è che avere il parco delle mura che è distante non ci vai magari a fare jogging però dal punto di vista della CO2 serve quindi il fatto che questo e tutta la zona dietro Genova debba essere protetta e non debba essere sfruttata secondo me è importante sia per la CO2 che per la biodiversità va bene alla natura fa meno bene a noi umani per noi umani è importante che si si combattano le isole di calore però per tutto il resto delle funzioni che il verde dà va comunque bene anche se non sono vicinissime certo tutto il mondo parla di forestazione urbana e periurbana l'ulto Genova è una città metropolitana quindi dovrebbe fare un piano di forestazione periurbano che Milano ha cercato di fare però siccome è una città diciamo a forma di isola mentre Genova è a forma di banana con forma di pigreco diciamo completamente diversa Milano ha delle difficoltà per realizzare la forestazione periodale ora Genova sarebbe molto facilitata ed è uno dei temi che non so per esempio l'Accademia dei geroglioni che credo sia nota in tutta Italia come merita per quello che fa a Firenze ma anche in Italia dice che uno dei temi più importanti oggi è portare in città la forestazione non l'albero del viale o del giardinetto o del giardino pubblico la forestazione quindi bisogna fare penetrare con i corridoi fare periurbano e fare poi l'effetto climatico insieme all'effetto sulla salute di riduzione della CO2 della biodiversità viene automaticamente l'effetto anche sulla CO2 del giardinetto è un uso utilissimo per la collettività per la riunione per vedersi per i giochi è modestissimo quindi levare plani di forestazione mi pare che la giunta attuale sia per cementificare il cementificabile non per togliere il cemento dove c'è quindi se non accolgono questo spunto all'interno del prossimo piano del verde direi che non si va da nessuna parte perché poi ce l'ho per altri iniziò 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 come ineguida del piano del verde hanno presentato quello che c'è scritto nella legge 10 quindi meno di così non si poteva fare no poi anche alla luce di tutte le grandi opere che sono decantate a tutti i livelli avere un piano del verde è fondamentale perché le vendono come interventi che dovrebbero anche contribuire al recupero delle varie zone che sono interessate quindi anche azzeclare il tipo di verde il tipo di interventi che si devono fare è importante in una fase della presentazione dello sky metro parlavano anche di piante ufficinali vicino ai piloni presa per i fondelli quando c'è stata la presentazione si vedeva benissimo che le zone più bianche quindi con meno verde e meno servizi ecosistemici erano tutte quelle intorno al porto e quelle della Val Polcevera bassa e della Val Bisagno bassa intorno dove tutto quanto è cementificato argine tutto o uno va a togliere del cemento in quei posti lì o se no non abbiamo delle funzioni diverse dovremmo fare del diradamento ma è una parola che non piace a nessuno bene ci sono altri interventi Pino sta parlando ma il microfono è spento è il microfono è spento Pino Pino accendi il microfono ho detto dopo qui non si può ricominciare presentando della linea di guida che sono nulla più della legge che esiste cioè le linee di guida sono mi sembra che c'era anche Lucente che voleva dire qualcosa grazie sì io sono molto d'accordo con Pino il problema è che quella legge l'ha ha gli stessi limiti di questo piano del verde è una legge non finanziata perché è la stessa politica che c'è a livello centrale e comunque non è stata finanziata per esempio è quella che prevede tot alberi a neonati ma non è stata come anche che ci sia il mantenimento delle stesse quantità cioè anche a livello nazionale è il ragione che dovrebbe essere una battaglia nazionale perché ha gli stessi limiti del piano del verde cioè sono piani non finanziati sono leggi non finanziate e comunque ci saranno come altro tema che dici degli alberi extraurbani rispetto a quelli urbani ma vedrai che ci saranno perché li ho sentiti che c'era già il busio in questo senso consiglieri che diranno questo perché loro dicevano che fondamentalmente Genova va bene con i suoi tassi di verde che ha quando sappiamo benissimo prendiamo l'esempio della bassa Valbisagno Marassi Quezzi San Fruttuoso che ha tanti abitanti quanti Savone ha come zona verde dell'imperiale perciò come fanno come dire usare il verde per l'urbano per dire che noi siamo a posto anche se con questo termino sulla relazione che hanno dato loro citano assolutamente dei piani per il verde per l'urbano cioè uno dei due punti soli dove citano il dissesto idrogeologico perché sono stati estremamente timidi per usare un termine così morbido perché il dissesto idrogeologico in quel documento che hanno dato c'è secondo loro solo per due motivi per la fragilità insita del nostro territorio o per l'abbandono delle fasce estraurbale ma il dissesto idrogeologico è soprattutto creato creato dai piloni che metti nel disagio creato dai piloni della funivia dove c'è la relazione tecnica che dice che non c'è pericolo nell'immediato nell'immediato vuol dire che non c'è pericolo quando metti le fondazioni e nessuno dice si prende la responsabilità ad appena un anno dopo però questo secondo me è giusto rivendicare diciamo svincolare il piano del verde da una visione per gli alberi e dire che è anche e soprattutto un piano di depermeabilizzazione del territorio che cerca di tutelare il territorio già presente il verde già presente l'acqua già presente e integrarlo in progettualità perché la vecchia tipo di progettualità io taglio tutto cementifico e dopo metto gli alberi posticci e perciò chiedendo l'inversione depermeabilizzante li citi anche questa cosa qua che questi qui del dissesto geologico se ne fregano e tutti quelli questi aspetti che avevo chiesto di citare anche all'agronoma che secondo me danno più frecce a questo nostro arco io dicevo una cosa diversa io dicevo se queste linee guida che ci sono state presentate che stiamo discutendo in comune con le commissioni sono le linee guida che fanno riferimento a una legge nazionale che è la legge 10 più alcune linee guida che fanno riferimento a queste leggi non servono a niente bisogna scrivere le linee guida per partendo da quella legge quelle regionali e soprattutto quelle per la città metropolitana di Genova e per la città di Genova se no che linee guida sono ma si può dire le linee guida sono quelle della legge 10 e quelle sono linee guida complessive come una legge dello Stato oltretutto in questo caso non vincolo per cui potete scrivere le linee guida per Genova oppure ripartiamo da zero bene ci sono altri interventi posso dire due cose io veramente da ignorante premetto che so poco e da poco tempo che me ne interessa di questo però ho partecipato alle due diciamo due incontri che ci sono stati in comune le due audizioni uno qualche mese fa eravamo stati con Bucci in un gruppetto di persone una quindicina di persone siamo stati a visitare la nave una nave da crociera e Bucci così se n'è uscito dicendo che Genova è la città più verde d'Italia questo questo ha detto coro a un po' più e seconda cosa invece appunto avendo partecipato a queste due audizioni scusami è vero è vero Enzo perché conta il parco delle mura cioè conta tutta l'area verde ma non l'area della città consolidata no ma siccome lui si fa bello di questa cosa è lega ambiente sono i dati di lega ambiente che sono cioè diciamo sono giusti però sono non 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 suddividono la città consolidata dalla città appunto che ha alle spalle il parco delle mura e quindi ovviamente ha molto verde non è fruibile mi ricordo ai tempi quando era un consiglio comunale avevo fatto una discussione con Sandro Nozengo per dire che a lui sosteneva che Genova era una città che aveva tantissimo verde proprio per il parco della mura ma perché fanno la media del pollo arrosto eh sì ma poi scusa se ci aggiungi che Genova è una delle 14 città metropolitane adesso 12 o 14 non mi ricordo quindi ci metti tutta l'area metropolitana della città con i comuni intorno è una città verdissima ognuno come me sta in centro e di verde c'è solo corso paganile poi volevo ancora sì sì ma lo dicevo proprio perché comprendo benissimo il ragionamento ma poi all'esterno risulta questo discorso qui questo numero e mi sembra che fosse il 63% qualcosa di certo e l'altra cosa che volevo dire è che avendo seguito queste conversazioni invece che abbiamo organizzato insieme all'Istituto della Bioetica Italia Nostra come costituto e avendo partecipato alle due audizioni a me sembra che si parli di due cose diverse cioè quello che ho sentito in audizione non ha niente a che fare con quello che ho sentito qua scusate se sono troppo tranchant ma proprio non sono neanche cioè forse lontanissimi parenti abbiamo un linguaggio un modo di vedere completamente diverso purtroppo sì però come si fa a ragionare su quel diciamo partendo da questa base cioè sono proprio i principi che mi sembrano totalmente diversi ecco questo secondo me la prima cosa è rifiutare di prendere in conto come linea guida per il verde di Genova le stesse cose che si dicono in una legge ma è assurdo ballale su Genova questo è il ruolo della pianificazione però è la visione che sta come dici tu Enzo è la visione molto difficile quando si ha una visione completamente diversa è un dialogo tra sordie spesso perché Bucci vuole le mani libere la pianificazione non gli fa dare come dire i lavori alle vicine amici ecco le idee che c'è lui conviene sempre comunque rilanciare rilanciare le idee che noi riteniamo giuste insomma la prospettiva che noi riteniamo essenziale per il futuro e secondo me questo va fatto insomma va fatto a Reggio perché anche Reggio non è che abbia cioè pur avendo una vasta area diciamo e avendo fatto il censimento però in termini sempre di pianificazione vedendo i modelli che ci ha raccontato anche Maria Rosa e anche la professoressa Mazzino sia la professoressa Nonzoni ci hanno illustrato insomma delle modalità di gestione del verde che insomma sono ben diversi in termini di visione strategica ecco di visione proprio del verde e quindi bisogna che noi cercassimo di far passare questa nuova cultura che poi non è nuova perché appunto l'hanno pensata già negli anni 80 quindi non è mica tanto nuova però insomma bisogna che noi questo sforzo lo facciamo dovremmo diffondere anche queste conferenze insomma cercare di quanto più possibile adesso io ho sempre per fortuna i rapporti con alcune scuole che mi hanno mi ha telefonato anche la professoressa Sfiatti ieri sera appunto mi chiedeva sia per queste sia per quelle dell'intelligenza artificiale che volevano appunto collegarsi alcuni insegnanti per cui ho detto vabbè queste le ritrovate quelle già fatte le ritrovate su Facebook e anche su insomma su sito di Ecoistituto e sulle prossime invece si possono collegare o se non riescono come tempistica con la scuola le possono rivedere mano a mano insomma perché è importante che noi le diffondiamo insomma almeno diffondiamo questa cultura diversa non so cosa ne pensate io condivido pienamente e adesso direi che occorre impegnarci per il prossimo che è imminente il pre-festival però ecco sempre qualche difficoltà di collegamento non lo so se forse sono io particolarmente imbranata o cosa dice dovremmo semplificare al massimo queste il collegamento o magari farlo un unico un unico link chiedo proprio per non è possibile per una questione di sicurezza per evitare interferenze di possibili malintenzionati diciamo ma lo trovo semplicissimo magari no 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 sono io che te lo spiego in separata sede va bene volevo anche volevo anche ricordare che ci sarà molto importante la presentazione di quel ciclo che abbiamo deciso di chiamare il giardino dei libri quindi quando capitano dei libri interessanti li presentiamo il prossimo è importantissimo il rapporto Eco-Mafia 2023 perché racconterà proprio della situazione della Liguria e dell'Inghia Romagna e quindi secondo me è mercoledì prossimo se non sbaglio va lì sempre verso le 17 e adesso comunque lo diffondiamo però è importantissimo perché questi temi sono tutti collegati io ho chiesto proprio sia al generale Giove che a Fontana di soffermarsi se è possibile anche proprio sulle nostre regioni perché si intrecciano purtroppo a volte anche la cementificazione la scelta appunto di gestione dei rifiuti infatti in un certo modo con appunto il territorio e con la mancanza di attenzione al territorio e al verde a queste dimensioni insomma quindi io credo che quella presentazione di quest'ora io l'ho sentito proprio recentemente mi ha molto colpito quindi volevo anche perché insomma succedono delle cose gravissime quindi se ne abbiamo anche consapevolezza è importante perfetto bene grazie io vi devo salutare e vi ringrazio questa è stata una bellissima conferenza e grazie a tutti ho imparato tantissime cose quindi esprimo la mia gratitudine e allora ci rivediamo presto per il pre-festival ancora grazie buona serata grazie grazie